Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? The legend is back, the legend is back, Gormiti! Ti sconfigo! Come sta andando la tua partita? Sì, ho vinto Gianni! Tra l'altro Giada, lo sai che io ho approfittato del codice promo per comprare un nuovo Gormiti, adesso lo sto sbloccando con il codice! Ho iniziato la puntata! Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Scusate, stavamo giocando con l'app, è troppo divertente! Sì, è troppo divertente, scaricatelo anche voi perché è davvero divertentissimo! Aspetta un attimo, metto in pausa il gioco... Ok, ci sono! Sono troppo forte a questo gioco Giada, lo sanno tutti che vinco sempre! Lo so, lo so, però anche io vinco ogni tanto e a proposito di vincere, io voglio sfidarti con il collezionabile! No Giada, no dai! E oggi mi sento super forte e ti sconfiggerò! Ma non farlo Giada! Andiamo! Ma perché devi perdere? Vincerò, vincere! Da-da! Ti sfido con la Wave 10! Mi fa piacere che sei così felice Giada, tanto è impossibile battermi, lo sanno tutti! Non è vero, qualche volta ti ho battuto! Una volta, capirai! Se anche voi volete battere i vostri amici... E vincere come me! Sì, e come me, come farò oggi! Sì! Trovate la Wave 10 nelle migliori edicole nei negozi di giocattoli! Va bene Giada, ora bando le ciance e ciancio le bande! Era così? Non era proprio così! Va bene, iniziamo a sfidarci! Aspetta, aspetta! Io voglio chiedermi una cosa! Mi devo concentrare! Mi devo concentrare! Mi devo concentrare! Sempre! Aspetta! No! Questa, qui! Sento che vincerò! Va bene, va bene, va bene! E vincerò, Donny! Ricordati queste parole! Le ricorderò, ci ricorderemo tutti! Guarda, proprio davanti a loro! Sì! Pronta? Sì! Prego una! Vabbè, vabbè, vabbè! Perché ridi? Non mi piace questa cosa! Uh! Ragazzi, ragazzi! Anche io! Ma che cosa! Uh! Non l'hai neanche visto! L'ho vista in come Giada! Però, andiamo piano piano! Ma inizia tu allora! Perché l'odore della vittoria la voglio sentire piano piano! Piano piano! Allora! Sei pronta davvero? Vai! Mostrai! Aspetta che devo toglierlo dalla copertina! Sei pronta? Ma sei sicura che devo mostrare questo personaggio? Sì! Mostralo! Sicurissima? Sono sicurissima! Ma il cento per cento! Sento che vincerò! Dai! Lo farei così! Lo fai vedere! Va bene! Io ho trovato... Il titano degli elementi Giada! Così! Beh! Non è ancora detto l'ultima parola! Io ho trovato... Hurricane! Scusa! 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 Non è dato l'ultima parola, Gianni! Scusa Giada se ridò però! Un titano degli elementi contro un alfa hurricane! È... 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 È insomma! È insomma, eh! Dai! Va bene! Sulla card! Carissima Giada! Che numero hai trovato? Te lo devo dire davvero? Sì, devi dirlo! Non piangere però! No, no! Vedo già le lacrimucce! Non piango! Ho il numero 9! Sì, hai un po' di tosse? Sì! Sì! Bene! Dai, curati! Io ho il numero... 700! Ma che togli due zeri, per favore! Ho il numero 7! Ho il numero 7! È il mio numero preferito! Eh! Poggiamo la carda qua! Guarda che bella! E... Sotto... Al piede che non lo hai! Faccio dirlo a te perché è inutile! Lo sai che... Allora intanto c'è da ricordare che il titano degli elementi, essendo così forte... Ha il numero molto alto! Lo so! Io non voglio... Anzi quasi quasi non lo dico perché voglio sentire prima il tuo! Di la verità! Facci vedere! Al numero 2! Non ridere! Non ridere! Perché quando tu perdi io non rido! Il numero 2! È bassissimo! Dai, lo dico davvero! Sì! Al numero 7! Non so che vinto! Uffa! Non è giusto! Giada! Ero così convinta di vincere! Tu, tu, Contrina, ti devi solo arrendere! No, non mi arrenderò mai! Perché non bisogna mai arrendersi! Tu ti devi arrendere! Adesso c'è un nostro amico che ci sta aspettando! Quindi andiamo a salutare! No, ti devi arrendere! Sempre proprio! Ciao Gabriele! Ciao Gabriele! Ciao Gabriele! Ciao Gabriele! Come stai? Bene! 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 Che bello conoscerti! Ma sei contento di essere qua al Gormity Show? Felicissima! Che bello che bello! Ma quanti anni hai? Sette e mezzo! Ah! Quasi otto! E da dove ci stai chiamando? Da quale città? Da Ceccavo! E dove si trova? E dell'Olmo! Dove si trova? In zona? In Italia? Lazio! Ah ok! Sei giù! Sei giù! Sei giù! Sei un po' sotto di noi! Ok? Noi siamo a Milano! Allora! Allora! Noi sappiamo che vuoi farci vedere la tua collezione Super Gormitica! Vabbè che l'abbiamo già tutta preparata lì dietro di te! Facci un po' vedere! Vai vai! Facci vedere tutto quello che vuoi! Che è il tuo preferito? Allora! I miei preferiti sono Vulcan! Ok! Come mai Vulcan? E... Così! Così! E poi no! Ci sta! Perché è del fuoco! Pagari perché è un vulcano! Somiglia a un vulcano! Ci sta! Ci sta! Bravo! Poi! Nucleo! Ok! Quello è Silver! Eh mi sa di sì! La versione Silver! Sì! Ah! Bella! La versione Silver che si trova col giornalino! Bellissimo! Quindi vuol dire che guardi anche i giornalini! Leggi! Sì! Poi? E... Anche Notac! Eh beh! Ah! Beh ci sta! Ci sta! Sono più o meno nella stessa squadra! Bene! E poi... E vedete che c'è anche la torre dietro di te! Sì! Con Antium! Antium! Wow! Wow! Ma che bella collezione che hai! Hai visto noi chi abbiamo qua dietro invece? Sì! Come si chiama? Domanda! Lord... Lord Soul! Mi... Mi è simile! Diciamo che ci assomiglia! È ancora più grande di Lord Soul! È il... Fortissimo! Il titano! Il titano! Bravi! Ti danno degli elementi! Bravissimo! Però è vero! Però ti devo dire che hai ragione! Assomiglia un po' a Lord Soul! Un po' a Lord Soul! I colori sono un po'... Sono simili! Sì! Sì! Bene! 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 Ma il Gourmetisho da quanto lo segui? Eh... Da un mese fa due! Ah ok! Ci hai scoperto da poco! 200! 200! 200! 200! Che caso di più? La parte dove ci sfidiamo? Dove facciamo vedere i giocattoli nuovi? Eh... La parte in cui vi sfidate con i collezionabili! Ah! Quindi... Anche se sei... Diciamo... Ci segui da poco... Sei già chi vince con i collezionabili, vero? Chi è il più forte tra me Giada? Johnny! Eh beh! No! Come Johnny! Ma Giada... Giada... Giada è normale! Se una non si allena... Io mi alleno tantissimo! Sono un po' sfortunata in patta! Sì! Le torte! Le torte! Le torte! Ma no! Però va bene! Non c'entra! Ma come le torte? Ma Giada! Ma... Ma l'hai visto? Il... Sì! Il codice sconto! Gabri! Tu l'hai visto il codice sconto? Sì! Brandi! Ma lo sai che cosa serve questo codice? Basta che... Lo segni appena lo vedi! Vai sul sito di Giochi Preziosi! Scegli qualsiasi gormita! E quando lo stai per comprare inserisci questo codice e hai lo sconto! Cioè tu puoi comprarlo con lo sconto! Quindi... Wow! Wow! Bisogna essere molto attenti eh! Tu l'hai già visto quindi... Allora! Prima di salutarci! Ci vuoi dire una domanda? Dai! A noi ci piace quando ci fate le domande! Vuoi farci una domanda? Una curiosità del Gormiti Show? Qualsiasi cosa ti viene in mente che vuoi chiederci? Qualsiasi cosa! Una curiosità! Ci sta pensando eh! Sì 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 sì! E' difficile come domanda! E non lo so! Magari come si fa il Gormiti Show o qualsiasi domanda in testa! Qualsiasi cosa! Sennò se non hai domande fa niente eh! Può anche salutare i tuoi amici che ti stanno guardando! Come vuoi? No! Non mi ha veduto in mente niente! Eh! Emozione! Va bene! Le abbiamo fatte così all'improvviso! Non l'hai potuta neanche preparare la domanda! Va bene! Allora noi per salutarci facciamo una cosa! Apriamo le braccia! Bravissima! E le stringiamo superforte! Bravissimo! Stringi forte così noi ci abbracciamo da lontano! E con questo noi ti diciamo ciao! Sappi che ti guarderanno tutti i tuoi amici sul nostro canale di Youtube! Vuoi salutarli? Digli ciao a tutti! Ciao! Ciao a tutti! Vuoi salutare qualche tuo amico? Qualche tuo miglior amico? Che sai che guarderà la puntata? Eh sì! Vai saluta! Vai salutalo! Così sarà contento! Verità non so chi guarda il Gormiti Show! Vabbè ma glielo dici tu! Guarda io ti ho salutato! Vai a guardare la puntata! Dici guarda io oggi ti ho salutato su Youtube! Ti guarderanno tantissimi bambini! Vai salutalo! Tanto poi ti guarda per forza! Il tuo miglior amico ti guarda per forza! Come si chiama? Veramente ho un amico che guarda i Gormiti! Ah ok! Come si chiama? Salutalo! Davide! Ok lo risultiamo noi allora! Salutiamo! Ciao Davide! Allora noi ci salutiamo, ti facciamo un grandissimo ciao! Grazie per essere stata con noi! Siamo stati contentissimi di averti conosciuto! Ciao Gabri! Un abbraccio! Ciao! 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 Oh Giada c'è da dire che stare con i bambini è davvero bellissimo! Hai proprio ragione! E partecipare al Gormiti Show è facilissimo! Basta andare sul sito gormitishow.com e seguire tutte le indicazioni! Sì mandate la vostra candidatura eh mi raccomando! Ora è arrivato il momento della bacheca gormitica! Bacheca gormitica! Allora Johnny oggi ci sono arrivati un po' di disegni e un po' di foto! Vai! Voglio leggere la prima dedica! Sì andiamo in ordine! Michele ci manda un bellissimo disegno coloratissimo di azzurro e ci scrive Ciao Gianni e Giada sono Michele ho 5 anni ho disegnato e colorato Krios vi voglio bene! Anche noi ti vogliamo tantissimo! Ti mandiamo un super bacione! Mua! Grazie! Bellissimo il tuo Krios! Invece Francesco ci ha mandato due bellissime foto! Vedo vedo! Con questa super dedica! Sei pronto Gianni? Sì vai! Allora ciao mi chiamo Francesco e mi piacciono da sempre i gormiti! Mi piace tanto la vostra trasmissione e mi piacerebbe parlare con Gianni e Giada! Il mio gormita preferito è l'Or Titano! Ah va bene ci sta è il tuo! Ma come si può vedere dalle foto mi piacciono tutti! Spero che mi rispondiate presto vi abbraccio! Ah! Guarda qui ha un esercito di gormiti! Intanto abbiamo realizzato il tuo sogno eccoti qua con noi e wow 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 davvero tantissimi giocattoli! Anche c'è il Titano anche! Sì c'è il Titano, Lord Canyon, Lord Titano! Wow sei super gormitico! Sei un super fan! Poi ci manda un disegno bellissimo Leonardo e ci scrive Ciao sono Leonardo e vivo a Foligno con la mia mamma il mio papà e il mio fratellino Massimo Ho cinque anni e mezzo vado all'asilo e mi piace molto giocare con i miei amici! Quando torno a casa vedo sempre le vostre puntate siete bravissimi! I miei gormiti preferiti sono Achilos e Trition! Con il mio amico Edoardo ci divertiamo a diventare nuovi gormiti! Ma che bello! Spero vi piaccia il mio disegno! A presto Leonardo! Guarda il tuo disegno è bellissimo! Grazie! È davvero bellissimo! Intanto grazie per seguirci a noi fa davvero molto piacere! E siamo contenti che ti diverti insieme a noi! Esatto e noi ci divertiamo insieme a voi! Quindi ci scrive questo disegno è Riff, vi seguo se siete bravissimi Leonardo! Grazie! Ti mandiamo un super abbraccio! Gormitico! E se volete continuare a mandarci dei disegni, delle foto, noi siamo super felici, basta andare sempre sul sito gormitishow.com Esatto! Già definita la puntata dobbiamo salutare i nostri piccoli amici! Mi raccomando continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il canale ufficiale di Youtube per essere sempre aggiornati! Sempre aggiornatissimi! Condividete il video e mettete tantissimi like! Un saluto da Johnny! E Zada! Ciao!